Siamo in compagnia dell'assessore Pietro Petruzzelli, assessore comunale allo sport. Buongiorno assessore, allora la questione stadio non è ancora stato consegnato materialmente nelle mani della nuova proprietà ma ci siamo quasi. Siamo in queste ore lavorando ad un atto amministrativo che dia la possibilità alla nuova società di utilizzare lo stadio San Nicola. Le linee guida di questo atto amministrativo sono quello, come sapete, che la manutenzione ordinaria sarà a carico della nuova società. Lo stesso dell'Aurentis nella manifestazione di interesse che ha presentato per ereditare il titolo sportivo aveva ipotizzato una cifra intorno alle 200-250 mila euro come oneri di manutenzione ordinaria a carico suo e però, differentemente dal passato, la manutenzione straordinaria sarà a carico dell'amministrazione comunale. Quindi al di là della formula burocratica, chiamiamola così, sostanzialmente il gestore rimarrà il comune e verrà dato la possibilità di utilizzo alla nuova società, è così? Sì, stiamo lavorando su un'ipotesi di questo tipo. Naturalmente dovete considerare che, ahimè, non stiamo parlando di un campionato di professionisti, stiamo parlando di un campionato di dilettanti. Considerate che ci sono anche tante altre realtà, tante altre città e squadre dove il comune addirittura dà dei contributi alle squadre di calcio della loro città. Noi abbiamo, come dire, la fortuna di stare in una situazione diversa. Non ci sarà un canone di locazione, giusto? No, assolutamente no. Vi ripeto, purtroppo stiamo, verosibilmente, partiremo dal campionato di Serie D, quindi dal campionato dei dilettanti. Per quanto riguarda la questione che è rimasta così, tra virgolette, appesa riguardo ai beni di Gian Caspro, dell'ex presidente Gian Caspro, c'è stata una svolta in questo senso o ancora no? Gli uffici comunali stanno lavorando insieme alla, come dire, la vecchia società dell'FC Bari all'inventario dei diversi beni che sono all'interno dello stadio. Credo che in queste ore stiano anche definendo con maggiore dettaglio quali sono i beni di proprietà dell'FC Bari rispetto agli altri beni. e il Gian Caspro, la società dell'FC Bari, andrà a rimuovere quelli che sono i beni di propria proprietà. L'alternativa è individuare un paio di luoghi all'interno dello stadio dove, diciamo, accatastarli in attesa che vengano rimossi. Questo per allinearci con i tempi e dare la possibilità alla nuova società di De Laurentiis di prendere possesso anche degli spazi e dei luoghi dello stadio San Nicola. Non è stato ancora stabilito quando, ma secondo lei verosimilmente quando entrerà in possesso il nuovo Bari dello stadio? Ma credo che la nuova società si stia anche organizzando per il momento, come dire, facendo allenare la squadra altrove. Quindi, secondo me, è una questione anche di qualche giorno. Anche perché io per primo, come tanti altri tifosi, non vediamo l'ora che parta la campagna abbonamenti. Trapela la notizia secondo cui De Laurentiis avrebbe chiesto di giocare la prima partita di campionato in trasferta proprio per ottenere altro tempo utile alla sistemazione del San Nicola. Le risulta? Questo non glielo so dire, anche perché rientra nelle dinamiche della federazione e quindi delle dinamiche più sportive che non seguiamo noi direttamente in prima persona, come è giusto che sia. Ritengo che possa essere comprensibile avere qualche giorno in più per, tra virgolette, come si dice, dalle nostre parti, prendere l'area della masseria e quindi avere anche una maggiore dimensione degli spazi dello stadio e forse per farsi trovare, diciamo, pronto per la prima partita in casa sperando che il pubblico risponda con un'ampia partecipazione che è la speranza, come dire, di tutti. Le chiedo per un attimo di togliere la casacca dell'assessore di indossare quella del tifoso in base a quello che trapela dal ritiro romano qual è la sua percezione ottimista come tifoso? Beh, per la città è uno shock questa cosa della ripartenza dalla Serie D ce ne accorgeremo sempre di più quando inizierà il campionato ma è bello pensarla come una ripartenza come una sana, genuina ripartenza io sono un ottimista di natura il vero tifoso della famiglia è il mio figlio che non vede l'ora di essere riportato riportato allo stadio per tifare i propri beniamini e per passare anche un po' di tempo con il proprio papà. Grazie all'assessore Petruzzelli Grazie a voi e soprattutto colgo l'occasione per fare un grande in bocca al lupo al Galletto TV, a questa web tv che sta partendo con Maurizio che la dirige la città e i tifosi hanno bisogno anche di voi e quindi continuate a fare il vostro lavoro noi ci siamo per tutte le informazioni che vi servono.